Bella a tutti ragazzoli, intoppamento iniziale, bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo giunti in un nuovo episodio di Minecraft, signori non ricordo bene in che episodio siamo, però signori siamo pronti e carichi per continuare la nostra missione, siamo ancora in caverna, non siamo nello stesso punto dove ci siamo lasciati ieri perché mi sono spostato così per muovermi un pochino per i fatti me e camminando camminando signori ho trovato altri diamanti, quindi prima di partire dal video signori vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo bisogno, che ho bisogno del vostro supporto, ah no mi sembrava un altro diamante ma è uno zombie di merda, del vostro supporto per raggiungere i 2000 iscritti, signori siamo molto vicini ma ho bisogno del vostro supporto e vi ringrazio in anticipo detto questo signori non perdiamo molto tempo e partiamo con il video di oggi, lui si sa fa le terme e a noi ce ne frega poco, allora recuperiamo subito questi diamantotti signori allora nel video di oggi non ho intenzione di stare ancora in grotta come siamo stati negli ultimi due episodi, quindi recuperiamo questi diamanti ovvero sono uno e due, solamente due, bastardo di un gioco, solamente due me l'ha dati vediamo se per caso c'è il trucco, c'è il trucco, c'è il barbatrucco signori, altri due così subito va bene, il barbatrucco mi è piaciuto tantissimo, ne abbiamo provato di quattro, come se non ci fossero domani, quattro belli belli veloci veloci, va bene così, ce n'è altri? No, non ce n'è più va bene, ci accontentiamo, abbiamo portato a casa 19 diamanti, che con quelli che abbiamo a casa, se non ricordo male, possiamo farci una bellissima armatura, l'armatura ce la possiamo già fare signori decisamente sì, di qua si sale, interessante, ah c'è davvero tutto qui intorno, allora signori, come vi ho detto non ho intenzione di stare in grotta anche oggi quindi raccolgo i materiali questi che ci sono qui a vista, dopodiché torniamo in superficie e andiamo alla ricerca e andremo a costruire un qualcosa per poter mangiare mi avete dato dei suggerimenti negli scorsi video, ovvero quello di illuminare la parte alta delle caverne e sono degli ottimi suggerimenti signori io purtroppo sono scemo e certe volte me lo dimentico che mostri possono cadere anche dall'alto però i consigli sono sempre ben accetti, quindi recuperiamo questi ultimi materiali qui vicino alla zona dove eravamo dovrò che tornerò in superficie signori e nel video di oggi vorrei andare a fare una farm di cibo perché per quanto riguarda l'ossidiana, che avevo detto nello scorso video, volevo recuperare anche l'ossidiana la recupereremo da quel portale che c'era distrutto, che c'è vicino il villaggio, il villaggio che c'è vicino casa nostra signori quindi la recupereremo da là il grosso problema, il fondamentale grosso problema reale in questo momento è capire qual era la strada per tornare a casa questo potrebbe essere un grossissimo problema sento anche delle frecce di uno scherzo e questa cosa non mi piace per niente mannaggia a chi non ve lo dice pure ok, lui l'abbiamo eliminato, noi non abbiamo più cibo questa cosa non va bene, devi morire male, devi morire male, devi morire male ok, no, veramente il cibo ce l'abbiamo e non avevamo più cuori va bene signori, torno velocemente a casa, là ci sta un altro zombie che ci sta venendo a perseguitare va bene, e ci vediamo quando facciamo un resoconto della situazione oppure potremo andare a recuperare l'ossidiana in questo video non lo so signori, intanto devo riuscire a tornare in superficie questa già sarebbe una cosa molto importante ok signori, siamo riusciti a uscire da casa, dalla grotta signori e siamo riusciti a ritrovare la strada di casa grazie alle coordinate scritte sul nostro bellissimo taccuino che ci portiamo sempre dietro guardate che bella casa nostra signori da lontano come si vede veramente bene spettacolo, spettacolo ok, va bene, va bene, non state vedendo assolutamente niente in questo momento perché siamo in mezzo agli alberi e in mezzo al nulla però ora piano piano vedrete che spunterà a casa nostra eccola lì, con tutta la coltivazione di bambù enorme la nostra casetta sperduta in mezzo al mare ecco però tante belle luci carine e coccolose e questa cosa mi piace tantissimo la prima cosa è che sono comparsi 70.000 mostri tutti insieme ma porca miseria, ma perché, ma perché dico guarda quanti creeper ci stanno qua ma porca miseria di una paletta ubriaca ma porca miseria porca, 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 porca troppo tardi, va bene sta succedendo il delirio signori, tu sei rimasto bloccato lì? no spunterò un cratere enorme lì sotto potrebbe anche essere che spunto un cratere enorme lì sotto c'è la mia piantaggia di bambù qui cortesemente evitiamo di far danni do star creeper, do star creeper non esplodere zia, non esplodere ok, perfetto signori abbiamo fatto anche partecipare alla guerra con i mostri che io direi di fare una rapida corsa verso casa evitare tutte quante le frecce e tutti quanti i mostri e farli morire tutti bruciati così imparano imparano a venire a rompere le scatole a noi che stiamo lavorando per per la collettività ok signori, ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta allora ora dovrebbero pigliare tutti il fuoco male se non sbaglio ed è proprio quello che sta succedendo si, stanno bruciando tutti questa cosa ci piace tantissimo signori mentre loro bruciano questo sta provando a risalire la... 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 e c'è quasi riuscito pure porca me, è riuscito a farsi tutta quanta la nostra pedana al sole bruciando vabbè ok allora io direi signori nel video di oggi facciamo un video molto, molto, molto easy molto easy abbiamo tanta legna qui qui no qui no facciamoci allora signori fatte chiaro, amicizia lunga questo è tutto il bottino che ci sono portato a casa nelle due spedizioni in grotta e non è per niente male quindi direi per prima cosa mettiamo a cuocere tutto quanto il ferro che abbiamo recuperato che è tanta roba e mettiamo anche a cuocere ma io c'ho solo questo come carbone cazzarola gravissima è questa cosa mettiamo a cuocere anche l'oro ho solo questo carbone com'è possibile questa cosa va bene superfluo sono io forse ciecato che non lo vedo dopodiché ci facciamo un piccone in diamante perché signori è giunto all'ora di dare una svolta a questa serie e ci andiamo a recuperare l'ossidiana che c'è nel portale vicino all'altro villaggio se non sbaglio che debba essere in quella direzione di là se non sbaglio sopra la montagna quindi molto rapido veloce e indolore qui il babbusta cresce in tutto questo non è qua cosa ci abbiamo ci abbiamo altri te diamanti che ci portiamo a casa e altri sette di ossidiana signori quindi ce ne basta veramente poca per costruire in uno dei prossimi video perché non sarà nel prossimo video il portale del nether non sarà nel prossimo video sicuramente no signori perché non possiamo andare nel nether in queste condizioni ok che possiamo farci un'armatura forse no nemmeno perché con 19 pezzi non possiamo farci un'armatura di diamante però 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 tanti però e tanti se possiamo possiamo intanto invastire una buona armatura che non sarebbe male come cosa e possiamo anche dobbiamo prima di tutto creare una fonte di cibo signori stiamo a cascare male perché senza fonte di cibo non si va da nessuna parte se non possiamo andare continuare a andare a giro con le angurie e con e con con le angurie e con come cazzo lo si chiamano e con e col pane decisamente no ci washottano male in un colpo solo allora allora signori facciamo così altro rapido taglio perché sennò diventano tutti episodi molto monotoni altro rapido taglio ci vediamo quando sono sul 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 monte dove c'è il portale e ci recuperiamo i pezzi che ci servono per costruire per la nostra costruzione signori eccola signori si vede in lontananza se stava a cascare di nuovo ma porca miseria ci sti buchi nelle montagne si vede in lontananza signori ora guardate guardate la magia con uno schiocchiere di dita saremo là sopra al 1 2 3 visto? ci siamo arrivati qua forse non mi è riuscito bene il giochetto dell'audio però va bene però va bene ce l'abbiamo fatta signori recuperiamo questo ossidiana allora a me mi servono 3 e 3,6 e 4 10 pezzi sicuro di ossidiana per fare il portale a casa nostra potremmo qualcuno sicuramente nei commenti oppure guardando questo video avrà potuto pensare ma perché non lo stai costruire lì il portale visto che già ce l'è pronto no no ci stiamo a fa 8.000 km praticamente ogni volta per andare nel nether non esiste proprio ci portiamo a casa tutti i pezzi di ossidiana di questo di questo portale anche questi pezzi di ossidiana che piange o come cazzo la si chiama non mi ricordo ci riportiamo a casa e così poi con calma procediamo alle varie costruzioni signori perché intanto dobbiamo costruire una farm giusta di grano perché il pane è fondamentale signori per andare avanti poi dobbiamo costruire anche fondamentale una costruzione di una giusta costruzione di bambù in cui la voglio fare con la redstone in modo che con un pulsante si distruggono tutti quanti tutti quanti gli alberi di bambù e regoliamo tutto il bambù in una stessa volta non stiamo a perdergli tempo a zappare e a rompere e a rompere i blocchi e poi signori fondamentalmente procederemo anche a una farm di mucche o di pecore perché abbiamo bisogno di cibo reale e poi penso che ci sarà il portale quindi ci saranno ancora un paio di episodi prima che riusciamo ad andare nel nether ma questo non ci scoraggia questo non ci scoraggia signori anzi ci spinge ad andare sempre più avanti sempre più forti sempre meglio io penso di aver preso ossidiana per me e tutta la mia settima generazione praticamente però va bene perché comunque poi dovremo costruire anche il portale del nether e qualcosa non possiamo poi andare a cercare altra ossidiana o altre o altre situazioni varie quindi prendiamola tutta e chi se ne frega se ne frega segnali tanto non sta qua a fa nulla sta ossidiana posso prendere anche questa la i blocchi qui rossi che non mi ricordo come si chiamano di di maollo chi ha tagliato una cipolla ma che cazzo era sblocca 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 cose così al suo piacimento non non fateci caso non fateci caso sblocca obiettivi al suo piacimento perché non l'hanno già preso quello di sblocca che piange no no forse ancora non l'era caduto l'hanno rotto era caduto ma non l'avevamo raccolto quindi vabbè dettagli non non concentriamoci troppo su 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 queste cose raccogliamo pure un poco di netherite che non è netherite ma come cazzo la chiamiamo questa si chiama netherrack ok che dice a che mi serve ma niente potremmo comunque farci la costruzione della nostra zona del ponte un po' più in maniera diversa in maniera diversa così da far capire che appunto lì ci sta il portal ci inventiamo qualcosa pure però una volta che ce l'abbiamo ce la portiamo a casa giusto? è inutile lasciarla qua a fare la muffa detto questo signori oggi spero di non avervi annoiato troppo con questo video un po' più tranquillo e in cui non abbiamo fatto niente di case però siamo tornati a casa sani e salvi abbiamo recuperato tanti bei materiali detto questo signori che vi devo dire mi è rimasto lì un blocco di ossidiano lo lasciamo al ricordo? ma lo potremmo lasciare così al ricordo lì sono speso in aria dire qui un giorno c'era il portale del nether e oggi non c'è che più beh vabbè detto questo signori io non ho che altro aggiungere a questo video se non ringraziarvi che non riesco a più aprire i materiali perché perché sono pieno via 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 questa e recuperiamo un altro po' di questa un'altra l'abbiamo zappata tutta signori che cazzo la lascio qua e dai detto questo signori io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i studenti e per il supporto con le spalle il portale che non esiste più ma lo costruiremo nel nostro villaggio io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i studenti per il supporto vi ricordo di iscrivervi e noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao 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 grazie a tutti